Ti ami davvero? Sono Filippo Ongaro, ex medico degli astronauti, primo medico italiano certificato in medicina anti-aging. Ti può sembrare una domanda un po' assurda, ma vorrei in questo episodio focalizzarmi sull'importanza dell'accettazione per riuscire veramente a migliorarsi. Quindi la domanda se ti ami davvero è meno scontata di quello che può sembrare, perché è chiaro che a un primo livello tutte le persone dicono beh certo mi voglio bene, come no? Ma prova a soffermarti sulla domanda e andare un po' più in profondità. Ti prendi veramente cura di te? Ti concedi veramente dei premi? Come ti parli e come ti tratti quando sbagli? Ti fai dei complimenti davvero nel momento in cui fai qualcosa di buono? Ecco guarda ti posso garantire per aver lavorato con tante persone che non è così scontato rispondere Sì certo, sono poche le persone che riescono ad instaurare un rapporto sano e rafforzante con se stesse. Molto spesso le persone vanno nella direzione esattamente opposta, cioè il dialogo che instaurano con loro stessi, i pensieri che caratterizzano il giudizio che danno su loro stessi, sono negativi. Molto spesso le persone sono il giudice più spietato che esista nei loro confronti nel senso che il dialogo, i termini, le parole che utilizzano nei loro confronti sono spesso ben peggiori delle parole che utilizzerebbe un nemico e poi ci sono anche altre persone che hanno un silenzio che caratterizza il proprio autodialogo persone che sono così inconsapevoli di quello che accade nel loro retropensiero che appunto in una prima istanza ti dicono sì certo che mi voglio bene e magari ti confermano anche no, io non mi critico, non mi giudico perché non si accorgono di quello che sta accadendo nel loro cervello. Perché? Perché è difficile capire il rapporto che abbiamo con noi stessi e molto spesso c'è una tendenza a non voler andare più in profondità per un motivo molto semplice. Forse ci dispiace scoprire qualcosa che non è bello, forse ci fa paura a renderci conto che in realtà non ci stiamo prendendo tanto cura di noi stessi, che in realtà non ci stiamo facendo dei complimenti, che in realtà ci insultiamo troppo spesso. Facci un attimo caso, anche una banalità linguistica come il dire che stupido che sono. Quante volte ti capita di dire che stupido che sono? Quante volte ti è capitato di sentire altri che dicono che stupido che sono? Tu diresti a un'altra persona che stupida che sei? Difficile, è difficile. Eppure a noi stessi siamo portati con estrema facilità a dirlo. Ecco, c'è un legame molto stretto tra il volersi bene, l'amarsi davvero e l'accettarsi. Allo stesso tempo c'è una difficile comprensione di che cosa vuol dire accettarsi. Cioè nel linguaggio comune le persone pensano che accettarsi significa passivamente accettare quello che si è e non aver nessun desiderio di migliorarsi. In realtà ti garantisco che è proprio il contrario. Cioè accettare chi sei è il presupposto per creare una relazione sana e rafforzante con se stessi. Non vuol dire affatto rinunciare a migliorarsi, ma vuol dire togliere fuoco, cavalli, potenza a quell'azione di contrasto negativo nei tuoi confronti che non porta a niente e che toglie energia al percorso di miglioramento perché sarai sempre distratto da questo retropensiero negativo, da questa critica di cui magari non ti accorgi, da questo linguaggio ostile, da queste punizioni che ti dai da solo e di cui non ti rendi conto. Quindi l'accettazione di chi sei è il fondamento positivo per costruire qualche percorso di miglioramento. E perché ho scelto fondamentalmente di fare questa domanda ti ami davvero? Perché fondamentalmente l'accettazione è strettamente connessa con un termine che io apprezzo molto ma che si sente sempre meno che è quello dell'amor proprio. L'amor proprio non è il narcisismo. L'amor proprio non è il darsi sempre ragione anche quando hai torto su tutti i livelli. L'amor proprio è volersi bene per quello che si è. L'amor proprio è creare una relazione con se stessi che si fondi su questo sentimento positivo. Come si fa a pensare che il miglioramento di noi stessi possa basarsi e fondarsi sempre solo su emozioni negative? Dove ti può portare la rabbia, la frustrazione, il fastidio, l'irritazione, l'insoddisfazione? Sono sentimenti che a volte sono parte della nostra vita ma che se sono sempre presenti sono sentimenti che ti tolgono energia, sono sentimenti che ti tolgono il terreno sotto i piedi e rendono qualsiasi tua idea di volerti migliorare estremamente difficile e complessa perché su cosa si fonda? Su cosa si fonda? L'amor proprio funziona in maniera esattamente opposta. L'amor proprio ti dà quell'energia positiva per dire guarda siccome mi voglio bene, siccome mi tratto bene, credo di poter essere qualcosa in più, credo di poter dare qualcosa in più, credo di poter diventare qualcosa in più. Ecco perché l'amor proprio è il sentimento fondante per qualsiasi percorso di miglioramento. Allora il consiglio molto umile che voglio darti è di farti più spesso questa domanda. Fatti più spesso la domanda mi sto trattando davvero bene, mi sto dando un premio per aver fatto delle cose nella misura giusta, mi sto divertendo, sto dando sfogo alle mie passioni e voglio anche in un certo senso sottolinearti il rischio più grosso che c'è in questa situazione. Il vero freno occulto per cui questo non accade nella stragrande maggioranza delle persone è il senso di colpa. Perché noi cresciamo e veniamo educati con una idea che tutto ciò che riguarda te stesso, tutto ciò che riguarda la tua crescita, il tuo miglioramento, il tuo divertimento, i premi che ti concedi, l'affetto che ti dai, è sbagliato. E questo atteggiamento ci compromette nella nostra capacità più avanti nella vita di stabilire un rapporto corretto con noi stessi. Per cui siamo sempre portati a mettere noi in secondo piano per mettere davanti qualcosa che appare come più corretto, come più altruistico, come più generoso. Attenzione che la vera generosità, il vero altruismo, che significa dare e darsi, esiste solo se tu sei pieno di qualcosa da dare. Se tu sei vuoto, non riesci a dare nulla. Se tu sei pieno di emozioni negative, riuscirai a trasferire solo queste. E piuttosto che fare qualcosa ma pieno di emozioni negative, ti garantisco, è meglio non farlo. Quindi il primo passo per sviluppare l'amor proprio è liberarsi dai sensi di colpa e cercare la propria soddisfazione personale. Perché una volta che hai raggiunto la tua soddisfazione personale, sei pieno, ricco di emozioni positive che puoi iniziare a donare agli altri. Ogni settimana produco contenuti nuovi, utili al miglioramento della tua prestazione psicofisica, della tua salute e, in ultima analisi, utili per vivere quello che io definisco una vita a pieno. Questi contenuti vengono prodotti sulla base di un'analisi molto ampia delle più avanzate ricerche a livello internazionale. Se ti è piaciuto il video che hai appena visto, ti consiglio di fare tre semplicissime cose. La prima è iscriverti al mio canale YouTube, lo puoi fare seguendo il link che trovi qui e questo ti permetterà di ricevere ogni nuovo video che viene prodotto automaticamente. La seconda è di andare sul mio sito, lasciare la tua mail, in modo tale da essere continuamente aggiornato sui nuovi articoli che scrivo e sui nuovi studi che analizzo e che ti propongo. La terza cosa è di andare sulla mia pagina Facebook, cliccare Mi Piace, in modo tale da entrare in contatto con me nella vita quotidiana. Lì potremo scambiarci opinioni, pareri, potremo discutere di vari temi. Tre semplici cose, se ti è piaciuto il video che hai appena visto, falle così restiamo in contatto. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.